La terza giornata del torneo. Giochiamo al Barca Reno. In questa bella giornata di sole incontriamo il Casalecchio. Subito Davito interviene in uscita bassa. Siamo primi di diversi titolari, messi K.O. dall'influenza, Migliotti, Gledion e Johnny. Manca il Casalecchio, mancano Elvis, Bernagozzi e Cifuni. Vallone sulla fascia sembra in forma oggi. Didu si libera e tira, parata. Calcio d'angolo per noi. Tentiamo la conclusione diverse volte, poi Didu al tiro, parata. Siamo quasi costantemente in attacco, respinta dalla difesa intercettata da Italo. Poi Fioriani per Gamberini, che in palleggio si ripara di un avversario e tira al volo. Traversa. Siamo sempre in attacco. Poi c'è questa ripartenza del Casalecchio. Che viene fermata da Bisagno e Bonafè. Palla a Vallone che fa una gran discesa sulla fascia destra. Con un gran cross parata dal portiere. Ancora Vallone inarrestabile. Cross al centro respitto. Poi tiro di Ferriani alto. Ancora un tiro da fuori di Ferriani, parato. Vallone in anticipo per Orlando. La palla arriva a Bonafè che tira di prima intenzione ma fuori. Punizione di Gamberini. Respinge la difesa. Palla alta che il portiere svanaccia in anticipo su Taglioli. Il primo tempo si chiude 0-0. Nella ripresa la barca ci riprova in avanti. Batte e ribatte a centrocampo. Poi taglioli di ginocchio per Gamberini. Tentativo di lancio per Didu sulla fascia. Anticipo avversario. Gamberini, Scagliarini e Didu. Non va. La barca continua in attacco ma da segni di stanchezza. Tiro da fuori del casalecchio. Marcellinaro para. Il casalecchio si presenta in avanti con maggiore continuità. Marcellinaro para il tiro e a campanile. Bella uscita di Marcellinaro sui piedi dell'avversario. Poi tentativo di contropiede. Azzan solo davanti a Marcellinaro. Palla fuori. Casalecchio sempre in avanti. Tentativo di contropiede con Didu. Non va. Contropiede del casalecchio. Taglioli interviene di testa. L'azione avversaria prosegue sulla sinistra. Palla al centro. Marcellinaro blocca in due tempi. Cross dalla sinistra. Colpo di testa del casalecchio. Fuori. Ancora un tiro del casalecchio. Marcellinaro alza in angolo. Asan dribbla 4-5 dei nostri. Poi viene fermato. Sul finale c'è un netto fallo in area di rigore su Orlando. Ma l'arbitro è da fallo contro. Vedo una spinta di Orlando. La partita si chiude con una brutta entrata sulla caviglia di Bonafè. Il risultato finale è giusto. Un tempo per parte. No. È interessante. Grazie a tutti.